L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Sull'articolo 1 della Costituzione italiana si fonda il piano strategico di attività per il lavoro in Puglia, elaborato da Arpal e presentato questa mattina in Fiera del Levante. Puglia è della sua agenzia Arpal, che si occupa di un bene speciale come quello del lavoro, con un ruolo ben definito, che è quello di occuparci di tutte quelle questioni che non sono altrimenti risolvibili da parte dei cittadini, laddove i cittadini non riescono ad autodeterminarsi. Sostegno al mondo produttivo, inclusione delle fragilità lavorative, lotta al caporalato, internazionalizzazione dei servizi, analisi statistica e informativa del mercato del lavoro regionale, i principali argomenti del convegno. Senza quartiere e caporali toglieremo il lavoro e i caporali con un accordo con gli enti bilaterali del mondo agricolo che ci hanno proposto sull'esperienza veneta un accordo di questo tipo, rendendo efficiente l'incrocio domande offerte in agricoltura. Non ci sarà più bisogno di rivolgersi alla criminalità organizzata. E poi i diversamente abili, capovolgendo la prospettiva, costruendo un repertorio delle prestazioni eccellenti che i diversamente abili possono rendere nell'impresa. Quindi non una logica di assistenzialismo, ma una logica di inclusione vera. E poi 100 nostri operatori usciranno dai centri per l'impiego all'interno della nostra regione e andranno nelle imprese a capire perché le imprese, quali ossacoli hanno per le assunzioni dei nostri concittadini e quali offerte possono fare per potenziare quindi l'offerta di lavoro nei confronti dei cittadini che ne hanno bisogno, utilizzando anche un'ottima app poco ancora esplorata che è il lavoro per te di Regione Puglia. Il sistema produttivo offre bene, però siamo tra le regioni spopolate, a rischio spopolamento e quindi dobbiamo fare in modo che l'occupazione offerta dalle nostre imprese possa facilmente incrociarsi con le aspettative dei cittadini e magari possa portare con la strategia mare a sinistra anche ad un'emigrazione di ritorno per ripopolare la nostra regione con lavoratori che vogliono spendersi e vogliono ritornare nella propria terra o a cui piace la Puglia e vogliono venire a vivere in Puglia. Attenzione particolare alla crescita occupazionale doppia rispetto anche al prodotto interno lordo con il settore turistico ed energetico con parti trainanti. Il settore turistico sta facendo la parte dalle Rone, richiede però quelle forme di destagionalizzazione che si iniziano a vedere, però la stagione turistica si estende sempre di più, ma anche tutto il pezzo dell'innovazione tecnologica è fortemente trainante come quello dell'energia, si contano, Union Camere conta nel rapporto Eccelsior che in Puglia serviranno 3.000 operatori specializzati sul fotovoltaico di cui ad oggi il tessuto occupazionale non dispone. Quindi una riflessione forse sul versante del repertorio delle qualifiche e della formazione professionale dovremmo iniziare a farla. Un messaggio accorato ai più giovani, qualunque lavoro, ce ne sono tantissimi sull'app Lavoro per Te di Regione Puglia, è un lavoro che crea contribuzione, fa fare un'esperienza e apre la mente, lo dico anche alle famiglie che spesso condizionano i loro figli, apre la mente rispetto a quello che il lavoro che magari oggi immaginiamo e che poi scopriamo in un'esperienza lavorativa essere un altro, quindi portando a quel benessere attraverso lo strumento e le politiche attive del lavoro.